lotta al covid tamponia gli studenti e nuove terapie domiciliari ristorazione pesarese in lutto morto giacomo grossi un altro capodanno con cani e gatti in fuga per i petardi ital service domani a eboli ci si gioca la supercoppa una buona serata e un buon anno a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news ben ritrovati con il nostro primo telegiornale di questo 2022 tg di lunedì 3 gennaio che apriamo analizzando un mese che ci si presenta con tante novità nella lotta al covid 19 sul territorio marchigiano si va dai più ampi spazi per le vaccinazioni ai tamponi agli studenti in vista del rientro delle lezioni in presenza e ai nuovi farmaci per le terapie domiciliari gennaio è il mese tradizionalmente più rigido dell'anno ma per le marche condenserà settimane calde di grandi manovre nella lotta al covid 19 si comincia domani 4 gennaio con il debutto dei nuovi farmaci per le terapie domiciliari il remdesivir e il molupiravir entrano nelle case dei malati di covid attraverso l'azione delle usca marchigiane per terapie che confidano di ridurre gli ingressi ospedalieri in terapie intensive e subintensive il 6 gennaio invece la befana della sanità marchigiana porterà tamponi gratis nelle tasche dei bambini la regione ha infatti organizzato per l'epifania una giornata di test antigenici gratuiti dedicati agli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto contatti stretti con casi positivi al covid o che manifestano sintomi compatibili al virus alle porte di un incerto ritorno sui banchi di gennaio le marche dunque vogliono scongiurare lo spettro della didattica a distanza soprattutto in quella fascia di età fra i 5 e gli 11 anni dove sono stati vaccinati appena 4 mila bambini su 92 mila i tamponi in questione saranno test antigenici rapidi samministrati gratuitamente al punto tamponi pesarese di via lombardia al codma di fano e al punto in località sasso di urbino priorità regionale dichiarata il mantenimento delle elezioni frontali assieme alla maxi somministrazione delle terze dosi 450 mila quelle promesse dalla regione entro il 31 gennaio con un potenziamento degli hub si stanno infatti liberando nuovi spazi per le vaccinazioni e per chi non è riuscito a prenotare la terza dose prima dei mesi di febbraio marzo è in arrivo da oggi un sms dal servizio cup che consente di anticipare le prenotazioni nel mese di gennaio un mese che ora avrà altre due date cardine quella del 5 gennaio in cui il governo draghi potrebbe decidere per vaccino e super green pass obbligatorio in ogni luogo di lavoro e quella del 10 gennaio che vedrà l'estensione del super green pass a tantissime attività del vivere quotidiano e dopo una settimana di costante ascesa di contagi da covid-19 oggi i nuovi casi di positività nelle marche sono 519 a fronte di un numero di tamponi processati abbassatosi a meno di 5 mila unità 160 sono i casi in provincia di pesero urbino preoccupante la crescita dei ricoveri che passano in un giorno da 277 a 286 e da 50 a 54 per quel che riguarda i pazienti marchigiani in terapia intensiva terapie intensive attualmente occupate al 21 per cento oggi si segnalano tre decessi tutti della provincia di pesero urbino e due di età particolarmente giovane un uomo di 41 anni di tavuglia una donna di 59 di fano oltre a un uomo di 84 anni di cagli tutti presentavano un quadro clinico con patologie pregresse ed è lutto nel mondo della ristorazione pesarese per la scomparsa di giacomo grossi della capannina sesto tornante dopo un periodo di malattia infatti venuto a mancare ieri il giovane ristoratore di un luogo simbolo della strada panoramica san bartolo e di tutti gli appassionati di moto che hanno nella capannina un luogo culto di ritrovo i funerali di giacomo si terranno il 5 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa pesarese di soria e cambiamo argomento daniele vimini vice sindaco di pesero nonché assessore alla cultura è stato nominato come miglior assessore italiano dell'anno dalla rivista art tribune per quel che riguarda proprio la delega alla cultura vimini è stato premiato soprattutto per la sua lungimiranza nel reperimento fondi per la cultura un prestigioso e gratificante riconoscimento dopo sette anni da assessorato nonché un ottimo auspicio per la candidatura di pesero a capitale della cultura italiana 2024 candidatura che conoscerà il suo verdetto il prossimo 18 gennaio si chiama mattia il primo nato nella provincia di pesero urbino per quel che riguarda il 2022 è nato all'1 e 30 del mattino dell'1 gennaio all'ospedale santa croce di fano un ospedale in cui per tutto il 2021 si sono canalizzate le nascite della provincia salvo alcune eccezioni di quasi 60 gravidanze connesse al covid che sono state portate a termine al san salvatore di pesero il servizio va in archivio un 2021 molto particolare per le nascite nell'area di competenza dell'azienda ospedaliera marche nord con il san salvatore di pesero ospedale covid per gli interi 12 mesi le nascite per il secondo anno sono state dirottate sul reparto materno infantile del santa croce di fano in pratica come per larga parte del 2020 non ci sono stati più neonati o neomamme a pesero salvo quei casi strettamente connessi al contagio da covid 19 per quanto riguarda il materno infantile noi siamo stati praticamente incaricati dalla regione marche a farci carico di tutti i casi positivi covid durante la gravidanza o durante il parto stesso quali sono i numeri noi quest'anno nel 2021 abbiamo avuto circa 55 a tutt'oggi 56 donne che hanno partorito a pesero di cui una decina di donne sono arrivate anche con sintomi di covid con problemi respiratori abbastanza seri due casi sono state trasferite dopo il parto nelle terapie intensive ad alti flussi due bimbi covid positivi sono trasferiti sono stati trasferiti al salesi di cui uno con gravi patologie respiratorie e cosa devo dire che il fatto di averci di aver fatto carico di averci fatto dato il carico la regione di questo non ha scompensato poi no il punto nascita che è stato aperto ed era unico punto tra fanno e pesero che ha praticamente ecco dato delle risposte eccellenti anche alle mamme che hanno avuto una gravidanza diciamo fisiologica i dati istat raccontano di un importante calo di natalità sul piano nazionale con 12.500 nascite in meno in italia nei primi nove mesi di quest'anno rispetto alla stessa finestra temporale del 2020 la provincia di peso robino non si astiene dalla statistica una provincia in cui il punto unico di nascita è collocato a fanno ha portato anche decine di neogenitori pesaresi a preferire di portare a termine la gravidanza verso l'ospedale di rimini i dati no sono diminuiti rispetto all'anno scorso per due motivi uno perché la natalità no col covid è nettamente diminuita e questo è stato anche un problema di interesse nazionale che è stato dibattuto nei giorni scorsi no dai dati istat c'è un calo netto delle nascite l'altro che il punto nascita no che è unico tra fanno e pesaro ha praticamente un pochino all'inizio dell'anno non nei primi fatto registrare una una minor gradiente da parte della popolazione del versante pesarese no ad afferire verso l'ospedale di fano e cosa che invece nel secondo trimestre praticamente questo dato non non è stato quasi azzerato fondamentale per cicoli lavorare su pesaro e fanno sempre più concepite come unica area metropolitana finché noi non consideriamo l'area di fano e pesaro come unica realtà metropolitana noi saremo sempre degli sconfetti perché non potremo mai usufruire delle risorse ma sono tante risorse che le due città potrebbero avere che confluiti insieme potrebbero garantire praticamente delle strutture eccellenti che potrebbero dare una sanità di alta qualità ci lasciamo alle spalle un capodanno con nuove restrizioni ma con vecchi rituali come quello dei petardi e dei botti dell'ultimo dell'anno spesso vietati ma ugualmente esplosi che creano stress traumi e disagi per gli animali domestici il divieto di feste ed eventi pubblici nella notte di san silvestro non ha spento un'altra discussa e discutibile tradizione quella di botti e petardi a capodanno che sono scoppiati a dispetto di ordinanze che lo vietavano e che intimavano anche multe fino a 500 euro è il caso di fano e mondolfo dove rimangono tuttora vietati fino all'epifania un'ordinanza anche urbino circoscritta al 31 dicembre nessun provvedimento a pesero ma anche dove il divieto c'era è finito per rimanere sulla carta dai quartieri di pesero pantano su tutti a quelli di fano una tradizione che continua a essere un trauma annuale per gli animali domestici cani in primis stressati o terrorizzati in casa o in alcuni episodi fuggiti in preda al panico nelle weekend appena trascorso l'associazione le primule di eva dell'empa di pesero ne ha cercati e riportati a casa una decina che avevano fatto perdere le tracce dai loro padroni e dai loro domicili le primule che tra l'altro si erano già preparate cioè questo gruppo di ricerca di cani e gatti smarriti animali smarriti che fa capo appunto all'empa che è una costola dell'empa si era già preparato lo immaginava e in effetti il primo e il due sono stati giorni di ricerca proprietari disperati piangenti e ricerche a tutto direi a tutto tondo comunque fortunatamente un po di questi animali sono tornati a casa una volta che ci sono calmati e altri invece sono stati ritrovati spaventati ancora abbiamo avuto cani con crisi epilettiche gatti che ancora sono nascosti da qualche parte dentro casa e non riescono a venire fuori dalla paura il lieto fine della ricerca di cani e gatti in fuga non ha tolto lo stress evidente a cui sono sottoposti gli animali che trascorrono questo evento traumatico abbiamo ricevuto già prima della della fine dell'anno chiamate da proprietari che volevano cercare di mettere in sicurezza diciamo i propri propri cani soprattutto perché ne risentono soprattutto loro e con la richiesta di alcuni tranquillanti perché chi già c'era passato precedentemente o chi comunque si trova a dover affrontare questo periodo con un cucciolo diciamo sì che siamo stati contattati per avere per avere consigli su come comportarsi e ovviamente ci sono cani che sono più sensibili di altri facciamo presenti cani cardiopatici che già di loro si agitano che non dovrebbero agitarsi oppure animali che sono particolarmente più sensibili quindi sicuramente se si trovano in una zona dove alla scoccar della mezzanotte iniziano a sparare vanno incontro a crisi di proprio crisi di panico che sono molto spesso ingestibili da parte dei proprietari perché quando arriva un attacco di panico il cane non non risponde neanche alle coccole non si fa proprio tranquillizzare quindi è un momento abbastanza critico per alcuni non per tutti però basti pensare anche i cani che vivono nei box cani da caccia che anche loro si agitano possono arrivare a rompere recinti ed è successo scappare ho letto su facebook di un cane che ha diverto proprio una recinzione l'hanno ritrovato il giorno dopo quindi sì sicuramente è un evento piuttosto traumatico per loro. E l'EMPA sottolinea come la problematica sia amplificata al di là degli animali domestici. E restando in tema proprio oggi i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti a mezzogiorno e tre quarti al cimitero di Villa Fastigi per recuperare un cane che era rimasto incastrato in un cunicolo di scolo di acqua e reflue. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta utilizzando un vestiario specifico per l'introduzione in cunicoli e anfratti e ha recuperato il cane in buone condizioni per poi riaffidarlo alle cure della sua padrona. E dai botti teoricamente vietati in questo capodanno passiamo ai balli altrettanto teoricamente non permessi in queste festività. Questo vorrebbe il decreto governativo che ha imposto limitazioni in queste feste ai soli cenoni con musica chiudendo i battenti ad esempio a discoteche e sale da ballo fino alla fine di gennaio. Restrizioni che espongono a potenziali rischi di feste abusive o mascherate da cenoni. E' questo quanto si chiede il cittadino che ha segnalato questo sospetto a Rossini TV. E' stato un capodanno di restrizioni, alcune annunciate e anche con qualche polemica come ad esempio quella dei divieti ai locali da ballo, discoteche, sale da ballo penalizzate ma c'è sempre il sospetto dell'abusivismo, delle feste non autorizzate. Un sospetto che Vincenzo Fidone da professore e da cittadino nonché da frequentatore di questo tipo di locali ha avuto in questi giorni. Sì, dunque io mi trovavo il 30 di dicembre a passeggiare su Viale Trieste, ho visto scaricare da un furgoncino con scritta orchestra spettacolo proveniente da Modena, del materiale appunto per poter ballare eccetera, insomma presumo, ecco in questo albergo. E l'albergo era chiuso al pubblico e quindi non c'erano clienti al momento eccetera. Il giorno seguente era ancora chiuso e io il giorno seguente allora ho telefonato per sapere, siccome io e la mia signora siamo due ballerini, volevamo sapere se nel caso si fosse ballato, questo noi non lo sapevamo, se potevamo accedervi anche noi. Ho chiamato prima la segreteria del sindaco e mi è stato detto no, sono vietate dall'ordinanza feste e quant'altro, comunque non sono sicura, le faccio risapere. E mi è stato, sono stato contattato dieci minuti dopo proprio dalla comandante dei vigili urbani di Pesaro, molto gentile, la quale mi ha ribadito questo divieto e mi ha detto dice se voi e lei e la sua signora andate, se c'è un controllo potete essere sanzionati. Allora il quesito che io pongo, solo un quesito e nient'altro, dico questa orchestra da ballo, un'orchestra spettacolo, cosa è venuto a fare stando questi divieti per fare musica contemporanea, musica da requiem, musica da camera, musica che non si può ballare, oppure per capire soltanto queste restrizioni, queste, diciamo così, queste ordinanze, che limiti hanno, se ci sono dei limiti entro i quali si può, diciamo così, trovare qualche spazio per poter inserire queste situazioni, oppure sono rigide come mi è stato detto a me, infatti ne io ne la mia signora siamo andati poi da nessuna parte per evitare multe e quant'altro. L'ultima cosa che voglio dire è che un altro albergo di Pesaro al quale io ho telefonato, anche lì, questo non è ubicato su Viale Trieste ma è un po', diciamo così, sempre sul mare, mi è stato detto che lì c'era proprio un cenone aperto a tutti, quindi non solo i clienti dell'albergo, con tanto di musica, 130 euro a persona. Noi ovviamente non ci siamo andati perché volevamo solo ballare e non cenare. Il mio quesito è questo, queste ordinanze che ormai vanno avanti, non solo a Pesaro, ma in tutta Italia, sono per tutti, se sono per tutti va bene o se no, se c'è qualche, diciamo così, possibilità di dare un po' di tolleranza, eccetera, almeno che si sappia che la cosa valga per tutti, perché se ci sono delle regole devono valere per tutti. E dunque, come sempre, vi ricordiamo il numero di Rossini TV dedicato alle segnalazioni 370-366-7210. Ora invece parliamo di Sunset Island, il parco acquatico di Viale Trieste allestito nell'estate 2018 e naufragato anzitempo per l'emergenza Covid-19. Di quella esperienza restano gonfiabili lasciati in deposito da mesi e conti da pagare, come i 32 mila euro che il comune dovrebbe versare a Pesaro Parcheggi in luogo del gestore dell'attrazione ammainata dalla pandemia. Un debito che è emerso il 31 dicembre attraverso una determina pubblica sull'albo pretorio del comune. Un comune che però attraverso una nota ufficiale precisa di non essere tenuto a pagare in quanto a suo dire dovrà essere il soggetto privato a rimborsare Pesaro Parcheggi, accollandosi il rischio di impresa connesso all'attività. E dai tuffi che non si sono potuti fare con Sunset Island chiusa in anticipo, ai tuffi che invece si sono fatti anche in questo capodanno. In formato ridotto per evitare assembramenti, ma anche questo primo gennaio una decina di temerari pesaresi hanno aperto l'anno nuovo tuffandosi nel freddo mare invernale della Rotonda Bruscoli di fronte al circolo Canottieri. E' andata anche quest'anno, l'acqua freschina molto ma soprattutto la temperatura esterna perché comunque con un po' di sole si sta meglio, anche psicologicamente. Appena esci ti asciughi e sei a posto. Oggi è freddo, molto, molto, molto. È sempre freddo, però quest'anno non so come, ho partito parecchio. Ormai è diventato un rito che è bello perché a parte che ci si ritrova magari anche dopo un anno non ci si rivede in modo anche per rivederci, però è una cosa anche piacevole. È un peccato che magari con questa pandemia diciamo molta gente non viene perché magari la paura di altre cose. Comunque sono convinto che in acqua non succede niente perché lì i germi non attaccano. Quest'anno è il primo anno, è una vita che lo voglio fare, però non ho mai avuto il coraggio. E quest'anno ho detto, bon, o la va o la spacca, è arrivato il momento. Io l'ho fatto l'anno scorso, è una bella esperienza. È un po' freddo, però si sopravvive e si ritorna a farlo. È un bel momento da passare tutti insieme, il primo giorno dell'anno. Il bagno d'inverno è nato negli anni 70 da un gruppo di sportivi pesaresi, Detti Omaccioni, soci della Canottieri Pesaro, che loro notavano tutto l'anno. Però l'inverno ovviamente il primo dell'anno facevano il tuffo ed era diciamo una cosa, un'iniziativa ben augurante per l'inizio del nuovo anno. E questa è durata fino alla fine degli anni 80. Poi dopo questa tradizione un attimino si è fermata, io l'ho ripresa il primo gennaio 95 da solo e poi dopo ho cominciato a chiamare amici, 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 amici. Alla fine siamo arrivati nell'anno pre-covid, quindi il primo gennaio 2020, ad essere in una sessantina, anche parecchie donne, anche dei ragazzini e quasi migliaia o mille o mille e cinque persone a vedere. E lì è diventato poi una cosa molto un evento. Ed ora lo sport. La prima partita dell'anno per l'Ital Service potrebbe valere il quinto trofeo da mettere in baccheca dalla società pesarese durante la sua militanza nella massima serie di calcio a cinque. Dopo due scudenti, una Supercoppa e una Coppa Italia, la società del presidente Lorenzo Pizza va a caccia domani della sua seconda Supercoppa in programma nella finale in gara secca che sarà giocata al Palasele di Eboli contro i padroni di casa della Fel di Eboli. Si giocherà sul campo campano dopo un accordo intrapreso fra le due società. Dunque appuntamento domani 4 gennaio alle 20.30 con un grande in bocca al lupo anche da parte di Rossini TV all'Ital Service. E con lo sport si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News. Vi ricordiamo che alle 21.20 come ogni lunedì torna all'appuntamento con check-up obiettivo salute. Il nostro spazio fisso del lunedì realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center. Oggi si parlerà di nuove tecniche legate alla protesi dell'anca in compagnia del dottor Paolo Razzaboni, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia mininvasiva di anche traumatologia dello sport. Appuntamento dunque alle 21.20, prima replica alle 23.15 e poi tante repliche in programma da domani a domenica. Domattina torna l'appuntamento quotidiano con Buongiorno Rossini, la rassegna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta dal lunedì al sabato alle 7.20. Domattina a tenere compagnia nel vostro risveglio ci sarà il nostro Antonio Astuti. E si conclude invece qui l'informazione di Rossini News. Il telegiornale ora lascia spazio alle previsioni del tempo e a me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona continuazione di serata in compagnia dei nostri programmi.